E' stata scelta la ricorrenza della giornata della memoria e dell'impegno dedicato a tutte le vittime delle mafie organizzata in ambito nazionale da Libera Associazione Nomi e Numeri Contro le Mafie per la consegna questa mattina del bene di Contrada Vituso a Niscemi confiscato alla mafia e ristrutturato in centro di accoglienza per diversamente abili di cui è Presidente Walter Donato Boscaglia. Si tratta di uno fabbricato di circa 200 metri quadrati con attiguo terreno agricolo costituito da due piani e comprendente anche una sala per la riabilitazione intitolata la memoria del giudice Rosario Livatino. Alla cerimonia di consegna oggi erano presenti autorità civili, militari e religiose. La nostra associazione è un'associazione che esiste da più di 30 anni la denominazione già contraddistingue l'oggetto dell'associazione perché l'associazione è costituita da familiari di soggetti diversabili all'interno della struttura le attività che noi faremo saranno variegate anche perché parliamo di arte, di sport, di gastronomia e di autonomia perché diciamo che il progetto fondamentale è quello di rendere autonomi le persone che frequentano queste strutture quindi l'inclusione sociale per noi diventa l'obiettivo prioritario per le persone. Nello Musumeci, presidente della commissione regionale antimafia. Io sono contento che questa struttura qui a Niscemi una città che ha dovuto fare i conti con una presenza malavitosa e criminale certamente ingombrante questa struttura saprà essere la testimonianza di una rivincita e di un riscatto di una nuova stagione. Niscemi è una città di persone per bene, oneste e laboriose e una sparuta minoranza non può assolutamente offuscarne la chiara immagine. Il sindaco di Niscemi, Francesco Larosa si inaugura un centro riabilitativo che sorge sulle ceneri di un bene che è stato confiscato alla mafia. Oggi è il 21 marzo, primo giorno di primavera un giorno di rinascita un giorno in cui il bene sopraffa il male vedi questo era un terreno dove insisteva all'epoca un casolare che è stato poi confiscato naturalmente alle mafie ed è stato riconsegnato alla città sotto un'altra forma sotto una forma vera quella che è dovuta da chi ha fatto abuso del territorio dalle generi è nata questa bella struttura è stata abbattuta la Vettia e rinasce un centro che poi viene destinato ai diversamente abili e dal bando che noi abbiamo predisposto chi ha vinto sono stati i genitori dei soggetti portatori handicap.